e allora buongiorno e buona domenica è la terza giornata della snow league in campo come sempre ci sono i nostri ragazzi dell'assunta che già sono sotto 1 a 0 ha segnato dopo 30 secondi Tortora per la formazione degli Spurs che comanda la classifica di questa snow oggi il Morecambe non gioca perché è stato impegnato venerdì in Europa League dove ha perso con la Samp Doria e allora Assunta Spurs, Spurs con 6 punti ha vinto sia con il Morecambe che con lo Zenit che era Niroburgo e punta a vincere e ipotecare questo girone da prima in classifica e probabilmente affronterà proprio gli Assunta in caso di sconfitta alle semifinali di questa snow league gli Spurs si schierano con Signoriello, Mauro a sinistra, no Mauro al centro De Franceschi a sinistra, a destra Cermiello Tortora e Gagliotti a centrocampo avanti D'Alessio oggi gli Assunta sono venuti in 11 intanto la palla per D'Alessio che salta il portiere e la palla non entra ragazzi c'è Carmelino tra i pari dell'Assunta difesa a 3 o a 2 composta da Cofano e Bussola ciotola un po' più avanti mediano diciamo poi ci sono Lombardi e Cerbone alle spalle di Stasino non c'è Salese a disposizione Sassino al volo a disposizione c'è Poshè che fa il fotografo Caliendo che è deciso di giocare avanti oggi intanto Tortora, Crossa 1-2 ci sono a disposizione anche Sciarra giusto? Sciarra Catenaccio che non ha il nome Tortora D'Alessio dentro ancora Tortora Lombardi metti il piede grande Lombardi oggi ovviamente si tifa come sempre Assunta e c'è Ziristro di Lombardi ha pareggiato l'Assunta ha segnato Lombardi capitano il capitano vieni qua bacia la visette e allora 1-1 pareggio di Lombardi ancora io li farei giocare tutti e 11 guarda Cervone Cervone in aria Cervone 2-1 che numeri di Cervone è che mette alle spalle il Signorello 2-1 primo vantaggio dell'Assunta è questa stagione ora Tortora sull'altra parte l'ha finita il tocco per D'Alessio Cofano va a recuperare va lungo linea Lombardi perfetto di di non finisce l'Assunta c'è una palla su a giorni se la sanno c'è giù c'è una palla centrale Cervone esce bene Mauro D'Alessio apre direzione Tortora calcia al volo Cervone se ne va ancora tocca occhio all'1-2 no Stasino apre Cofano l'aggancio tocco lungo linea come gioca l'Assunta questa mattina Lombardi è rimessa per lui occhio Stasino dentro l'area di rigore palla dentro Franceschi mette il piede Gagliotti si allunga D'Alessio la tiene in campo Cofano gran recupero Tortora nessuno segue D'Alessio palla dentro per lui col tacco 2-2 Cervone Bussola la tiene in campo Stasino tocca per Cervone non si intendono i due Tortora prova a ripartire il tocco per D'Alessio cerca la palla dentro l'area di rigore per Tortora vediamo se la rimette dentro c'è Natale tutto solo calcio d'angolo Spurs Signorello ha già preso due gol come la Roma oggi ne prenderà altri quattro a parte la pallera su terra ancora Bussola che mette in corner allora Tortora con il tacco Natale Cervone il tocco Lombardi Lombardi attenzione mani fuori aria attenzione al cartellino vediamo giallo 2 sul palo 3 in barriera un muro davanti al signorello Lombardi murato tocco dietro Bussola col sinistro ancora adesso poi Mauro cerca il lancio lungo cofano cambio ciotola può fare tutto l'assunta su questo campo è la regola della snow league no veramente tutto vale per l'assunta Lombardi Gagliotti prova ad andarsene riesce Lombardi lo attacca e recupera Scusa Cervone grazie comanda posce ormai ancora Cervone tutta l'uomo e se ne va Cervone almeno chiude 1-2 ancora pallone per Cervone arriva Tortora il tocco Cervone prendiamo la palla altissima poi bravissimo Bussola con l'esperienza guadagnare qualche secondo e la rimessa è sua Cervone di testa che apre Lombardi Stasino Stasino destro salvatutto signorello non è finita Stasino premi quadrato abbattilo abbattetelo è fondo no la palla non esce calcio d'angolo è quello il problema potrei mettere un po' zoom occhio porta vuota signorello parte il lancio no vince Tortora la tiene se ne va ciotola parte fuori Tortora forte in mezzo D'Alessio controlla vai addosso caduto Cervone allora Natale prova a risaltarlo poi il tocco Cervone Stasino ancora per Poché mezzo a due sbucca ma non riesce a tenerla il giocatore dell'assunta Cervone 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 Sperza apre Natale ora tocco Cervone Cervone vada Alessio parte il cross Tortora non aggancia tocco dietro signorello Stasino in pressione parte col destro fortissimo Carbone Occhio alla conclusione col destro Cervone rubava la salta signorello va col destro palo palo credibile Cofano attenzione all'uscita di Carmielino 2000 2003 occhio come Raul il rinvio di Cofano Cervone e occhio perché sta arrivando Cervone col tacco Poché la tiene in campo prova a ringhiare Poché c'è un po' di testa doppio ancora la ciotola buona attacco d'Alessio Natale dentro Tortora controllo vai Busson attento Busson attento al ciotola 3 2 stasino di testa tacco di Poché stasino no Fernando Natale 3 a 2 per gli Spursi 3 a 2 comunque è una partita molto aperta la formazione di Spursi è la prima in classifica purtroppo non abbiamo 3 a 2 Tossi il primo Tortora il secondo D'Alessio col tacco e il terzo Natale 3 a 2 guarda c'è una palla in verticale non passa Ciarmillo di prima Bussola poi spazza via ciotola salta bene Mauro D'Alessio in uscita il portiere traversa poi rinvio Natale è rimasto giù però ciotola Cierbone attacca lo spazio occhia la bomba improvvisa 1-2 con Pochet Cierbone 3 a 3 firmato i minuscoli assunta Pochet Cierbone signorello col sinistro salva Carmelino e poi vada Cierbone che leader Cierbone 2003 comanda lui il mezzo al campo apre Cofano Pochet il triangolo ancora Cofano e si va ancora la Cierbone putta signorello ruleta ancora Bussola occhio vuole il gran sinistro è morto Mauro Tortora prova a ripartire la formazione di Spurs lungo il pallone di Tortora occhio perché l'apertura di Pochet per Cofano Natale intervento di Sciarra ancora Natale sinistro angolo meglio giocare falso 9 per questa occasione occhio pallone lungo colpo di pugno poi di mano arriva Pochet Luca passala Luca sbaglia tutto qua Sciarra che comunque resiste e vada Cofano parte Cofano occhio la velocità di Cofano Mauro sistema Natale controlla il pallone parte Cervone Cervo un pallone a te parte il lancio calcio d'angolo ci ha battuto Cervone salta così il suo avversario e poi va col destro Murato sinistro forse una mano forse una mano Tortora Alessio non ti metti tocco per lui 1-2 con Tortora fattore Spurs arriva Sciarra poi Tortora miracolo miracolo di Carmelino da Alessio Carmelino va giù fallo la palla larga vediamo Cervone ancora a saltare Mauro mette il pallone rimessa il giocatore di Spurs si va con le mani di Catenaccio palla dentro occhio al secondo palo Cofano controlla tocca Pochet sbaglia Cofano tocca dietro poi lancio c'è il mello di testa torna settimana 18 oggi iniziano finalmente gli ottavi di Champions tre gli appuntamenti ma intanto Cervone dai numeri ci saranno tre partite di ottavi si comincia con Crystal Palace Corinthians si passa per Napoli Wimbledon alle 18 alle 19 si chiuderà la giornata degli ottavi con Crystal Palace di fronte però c'è Natale che cerca di entrare in area uscita di Carmelino Crystal Palace cani sciolti sarà l'ultimo match negli ottavi di quest'oggi poi ci sarà Napoli-Benevento ovviamente e intanto pallone ancora Pochet con la punta Gagliotti recupera e si lancia ma arriva Cofano D'Alessio sul pallone apre Signorello controlla il sinistro poi destro di Gagliotti Gagliotti chiude e riparte Cofano mette il piede Uomo Uomo arriva 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 bravo Cervone Franceschi la tiene tornate Vincenzo dietro ma col destro avanti lunghissimo petto di Signorello di Sponda Natale Mauro col sinistro avanti blocca Carmelino che parte col destro Cermello di Naso Gagliotti chiuso altro pallone avanti Luca torna vince l'uomo ancora il rinvio di Carmelino Cofano Lombardi Poché ancora Lombardi c'è di là Cervone visto servito va Cervone taglia il campo cerca Poché Giro fa mi battere a me Giro fa mi battere a me Palfo faci battere a me si va con le mani Cermillo Cervone carica il destro e la salva De Franceschi poi va con piede avanti Gagliotti guarda che non è tua rimessa Sguardi un po' persi ho detto che non era sua mi se n'è andato Cermiello attenzione ciotola scusa mi bussola ragione ragazzi siete troppi fa bussola 1 2 what do smell questo che vuol dire questa cosa ha detto la cassa Lombardi sinistro no è morto fate un'altra gif su Lombardi Salese tutto pronto vogliamo il montaggio su Lombardi cofano cerca il grandestro chissà come si vedrà eh Alessio occhio perché se mi viene addosso ti chiudo numero mezza due gaiotti bella 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 pochè tutto solo numero Cermone Rete ancora Cerbone ancora Assunta 4 a 3 dopo dopo la zappata abbiamo segnato voglio i montaggi ma con il sinistro signorello ancora Lombardi apre poi c'è c'è tutto solo cofano tocco per lui cofano dentro arriva Lombardi 5 a 3 per la sutta eccolo il primo tempo il Barcellona dove giocava 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 cominciano con una paratissima di Carmelino sulla conclusione di Tortora dalla battuta siamo 5 a 3 per l'assunta in una partita che può diventare storia si continua con il catenaccio che si era no anzi era calendo che si era un attimo era un attimo caduto Lombardi pressa Lombardi la tiene e poi Cervone stavolta non passa gran recupero c'è fallo si continua parte Cervone alta Cervone Lombardi vediamo un po' di chi è la rimessa ovviamente no fischi per l'arbitro ma cosa fai venduto 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 grande regola di Cervone che lotta con Natale Cervone fa passare il pallone palla per Sciarra Sciarra per Lombardi colpo di testa di Calendo anzi raccofano occhio occhio perché c'è una pala in aria di rigore Lombardi cerca il rinvio Antonio Antonio c'è la conclusione si sa la calcio d'angolo spinge l'assunta parte il cross cofano ciotola controlla prova il gran tiro ok spurs gran recupero di Sciarra poi D'Alessio sbaglia si cofano lancia vediamo Lombardi che attacca lo spazio Tortora ma vediamo se la gestisce parte Natale tocca D'Alessio e c'è il 5 a 4 tocco straordinario di D'Alessio Cerbone salta 2 va di sola tocca per bussola l'1-2 non si chiude Sciarmiillo pressato Tortora Sassino immobile c'è una palla che viene recuperata a bussola alza la testa prova dentro Sciarmiillo ha saltato poi salta ciotola due volte mette Coppa avanti tunnel cerbone 1-2 Ciarmiillo mette il piede spazza via è partito dall'Alessio la difesa non c'è cofano recupera velocissimo cofano che va a rinviare il pallone Lombardi Cerbone se ne va ancora bussola vediamo se cambia Cerbone controlla se ne va ancora due volte Cerbone imprendibile poi Lombardi ancora Cerbone mano di D'Alessio ciotola chiude Ciarmiillo a salire lui vediamo un po' colpo di testa di Carmelino no ogni tanto Don Antonio attenzione Ciarmiillo prende il primo tunnel prova a fargli il secondo ciotola spinto ma resiste stasino attenzione stasino ammazza lo ammazza lo stasino premi quadrato stasino sta andando sotto di ossigeno mi sa guardalo ciotola con il destra cerbone calcio d'angolo parte il cross colpo di testa di Lombardi tortora lombardi col destro di punta lombardi con il destro di punta tortora salta due uomini tocca per D'alessio ancora tortora parte il cross e poi non entra Antonio si va Antonio chi non muore si rivede visto che sta venendo don Antonio col destro salva tortora occhio occhio perché buca il pallone cagliotti poi c'entra vai gioca anche tu gioca di molto occhio con le mani dentro ce lombardi colpo di testa De Francesco va a rinvio ciotola mette giù palleggia catenaccio recupera bussola la palla che si alza mamma mia quanto il vento di ciotola parte signorillo col sinistro salva ancora carmelino ancora signorillo cross tutte a cinque tutte a cinque no signorillo grande carmelino butta sta palla tortora salva invece d'Alessio e poi parte cofano no se è lunga troppo cofano uno due cofano la perde e poi mette fuori Mauro e allora assunta in avanti sono in cinque lì avanti cerbone un tiro cross tortora lungo un po' di testa di ciotola dentro salta bene ciotola al volo d'Alessio fondo l'Alessio chiude cofano trepide catenacce partito lombardi lombardi improvvisamente rimessa per lui veloce 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 cerbone la fitta la tiene poi il pallone verso lombardi c'è bussola in zona lombardi di franceschi palla dentro c'è bussola tutto solo sinistro sbagliato tortora spazza altissima la difesa ma c'è cofano ancora cofano vediamo Gagliotti lungo linea D'Alessio di testa Natale pallone alto copo di testa si salva l'assunta fondo tortora col sinistro occhio a cerbone la palla per numero di sciarra cerca spazio D'Alessio scivola 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 bussola scivola bussola grande ricupero di ciotola palla nello spazio arriva cerbone in mezzo a quattro tunnel poi il cofano ma non può vare oh avanti Ciro avanzate che cazzo cazzo occhio a questa rimessa killer bussola pochè controlla no 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 catena c'è fermo ha pareggiato ha pareggiato su questa rimessa che ha pareggiato Fernando tortora pareggiato tortora 5 a 5 sì no infatti sì rulleta di cerbone è peccato perché da 5 a 3 a 5 a 5 eh Antonio 5 a 5 vabbè ci stai vabbè ci stai rendendo in giro tocco ciotola lascia lascia rimessa sbaglia occhio a cerbone mette giù il pallone mette il piede cermillo poi c'è il lancio tortora se ne va tortora Alessio ancora per tortora fate cross bussola recupera poi cerbone 4 contro 2 cerbone se ne va parte un tiro cross no no ocio gaiotti cofano ciotola cerbone palla bella per pochè 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 no buttati a terra era rigore sarebbe sarebbe stato rigore pochè si rientra si facciamo un po' che è costruzione guardi ma non è che quando fa così costruzione recupera benissimo ciotola 1-2 poi col tacco vada cerbone che salta secco cermillo ruletta cerbone cerbone balanrete 6 a 5 un cerbone incontraibile pazzito anche pochè signorello miracolo e poi rinvio e poi lombardi parte il tocco lombardi cermiello lombardi c'è attenzione contatto cofano lombardi tacco incredibile schioppa che sta succedendo no ma per oggi ha una difesa troppo alta sembra un tutto per tutto di fifa esci signorello parte il cross cofano e poi cermiello mette fuori cerbone la sterzata al tocco bussola spara che posce vuole il giocare che posce vuole il giocare 1-2 cerbone sterza tocca tutto solo cofano cofano parte il tiro parte il lancio d'alessio fischia un fallo scoppa ciotola che errore gagliotti murato spazzavia cermiello cermiello colpo di testa fischia fuori gioco oh fai forte cermone mauro di testa calcio d'angolo bussola palo tutti dietro tutti dietro alessio spazza bussola bombardi c'è questa palla in avanti a caso d'alessio d'alessio miracolo miracolo l'alessio 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 occhiato alessio parte il cross è finita ha vinto l'assunta incredibile ha vinto l'assunta primi tre punti contro la capolista spurs incredibile successo di tutto ma che è bene grazie a tutti per Mario per Mario è per il nostro amico Salese che è rimasto a casa adesso facciamo un'intervista allora ragazzi ce l'avete fatta ci avete messo a poco a vincere la prima partita comunque questo è per Mario questo è per Mario per casa Garuda e per Salese che sono i miei avete vinto la terza partita non l'ho mai visto lo fanno mettere la nostra assunta è pazzito ragazzi quale è stato il segreto la faccia di casa il segreto è stato il giocare di squadra però Cerbone ma pure Cerbone comunque Cerbone è stato un valore aggiunto vieni qua Cerbone io ti ho fatto l'intervista Cerbone 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 e chi lo zatta ti fa vellino ole 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 cerbone 5 gol nel questo 6 a 5 quindi diciamo se il mattatore è ufficiale del match chi vuole dire ma fa una cosa ma fa ragazzo ragazzo signore assumi prima fa schiappa dai ti lo baffetto ma tu hai ti lo 3 2 schiappa dai ti lo baffetto pezzo è iniziativa di Bocce ma chi è chi è e allora ragazzi ci vediamo la settimana prossima grande vittoria complimenti a tutta la banda assunta salutate Salese salese chiusi chiusi